«Evangelizzare i poveri». Questa è la missione di Gesù, secondo lui dice. Questa è anche la missione della Chiesa e di ogni battessato nella Chiesa. Essere cristiano ed essere missionario è la stessa cosa. Annunciare il Vangelo con la parola e, prima ancora, con la vita è la finalità principale della comunità cristiana e di ogni suo membro. Se nota qui che Gesù indirizza la buona novella a tutti, senza escludere nessuno. Anzi, privilegia i più lontani, i sofferenti, gli ammalati, gli scartati della società. Dalla finestra del Palazzo Apostolico, Papa Francesco è tornato a mettere a fuoco la missione della Chiesa nel sulco degli insegnamenti di Gesù, testimoniare concretamente la misericordia che Cristo ci ha donato. Il Figlio di Dio, infatti, era diverso dai maestri del suo tempo. Non aveva aperto una scuola per lo studio della legge, ma andava in giro, nelle sinagoge, per le strade, nelle case, a predicare e insegnare. Ieri, come oggi, l'annuncio messianico del Regno di Dio venuto in mezzo a noi si rivolge in modo preferenziale agli emarginati, ai prigionieri, agli oppressi, che al tempo di Gesù non erano al centro della comunità di fede. Di qui l'invito del Pontefice a riflettere sull'opera odierna di comunità parrocchiali, associazioni e movimenti e su quanto essa sia fedele al programma di Gesù. Non si tratta, infatti, di fare assistenza sociale, tanto meno attività politica, ma di offrire la forza del Vangelo di Dio che converte i cuori, rissana le ferite e trasforma i rapporti umani e sociali secondo la logica dell'amore. I poveri, ha concluso Papa Bercoglio, sono al centro del Vangelo.